Dato che la Turchia appoggia la Azerbaijan e la Russia l'Armenia, si potrebbe agevolmente pensare che questa nuova versione dello storico conflitto del Nagorno-Karabakh sia uno degli innumerevoli casi in cui un paese nato spinge per far passi avanti verso l'accerchiamento del territorio russo, così come insegna la dottrina di Brezinski. In realtà, oltre questa certamente realistica interpretazione, c'è sotto molto di più, con conseguenze che potrebbero avere risvolti geostrategici di fondamentale importanza per l'Italia. Il tempismo del conflitto già ci dice molto. Quest'ottobre si inaugurerà il TAP, il gas d'otto che porterà gas a zero in Italia, passando per Turchia e Grecia. Tale progetto fa parte di uno schema ben più ampio, il corridoio meridionale del gas. Parliamo di una delle più grandi infrastrutture energetiche al mondo, la quale porterà gas dagli immensi giacimenti del Mar Caspio, in Europa, attraverso l'Italia. I risvolti geopolitici sono immediati. Si crea per i paesi europei una valida alternativa al gas russo, ed ecco il perché della benedizione americana. Con la Turchia che ha grande interesse a far sì che vada tutto liscio, dato che la pipeline passerà sul suo territorio incrementando la forza strategica di Ankara nei confronti dei paesi europei. E la Russia che appoggiando l'Armenia vuole per ovvi motivi ostacolarne la messa a punto. Per l'Italia a questo punto potrebbero aprirsi importanti prospettive. Dopo che la Commissione europea ha in passato messo una pietra sopra al South Stream, il gas d'otto messo in costruzione dall'ENI capace di portare gas russo in Europa attraverso l'Italia, il corridoio meridionale del gas ci permetterebbe di consolidare la nostra posizione di hub strategico per lo smistamento di gas proveniente dal Mediterraneo e dal Medio Oriente nei mercati europei attraverso la compagnia nazionale SNAM. A ciò si aggiunga il fatto che ad oggi siamo di fatto il primo importatore al mondo di petrolio dall'Azerbaijan. È un risvolto del conflitto che veda sia un maggior ruolo turco in territorio a zero oppure al contrario una maggiore influenza russa potrebbe in ogni caso avere conseguenze determinanti per le condizioni dei nostri approvvigionamenti energetici. Da questa prospettiva appare evidente che ancora una volta gli interessi turchi si sovrappongono ai nostri, con Ankara che agisce e Roma che guarda. Data l'importanza strategica della questione l'Italia avrebbe dovuto essere il primo paese a muoversi. Invece no. La cosa più preoccupante dell'intera faccenda però è che il compito di risolvere questo complicato rompicapo spetti al ministro degli esteri Di Maio. Grazie Grazie